ciao fragoline e ciao fragolini allora finalmente sono tornata a registrare questo nuovo video dei gratte vinci allora per chi mi segue e per chi è iscritto al mio canale sa che cosa è successo riguardante al mio canale se non c'è non mi seguite oppure tanto meno non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale e mi raccomando se avete perso il video dove spiego cosa mi è successo andatelo a vedere perché tanto sul canale c'è prima di iniziare questo video così almeno vediamo se ho vinto e vi faccio vedere i gratte vinci compreso volevo avvisare anche voi perché c'è chi mi segue solo per i gratte vinci e non guarda gli altri video allora vi lascio qua la foto del secondo canale che io ho creato perché metterò anche lì i video diversi da questo canale e tantomeno metterò anche lì i video dei gratte vinci per cui calcolate che il video che metto qua è molto cioè non posso metterlo anche nel secondo canale perché se no me lo segnalano per copyright per cui giustamente farò anche lì i gratte vinci se non vi siete ancora iscritti al nuovo canale che è fragolina trattino basso real trattino basso official vi aspetto anche sul secondo canale che li ho già messo due video ma piano piano metterò anche altri video se volete sopportarmi e farmi arrivare a mille iscritti sul nuovo canale dato che ho spiegato la situazione di questo canale di quello che è successo mi fate un favore enorme se vi iscrivete anche sul secondo canale dove metterò gratte vinci blog e tutti altri video che farò un po un po ma molto diverso dopo detto questo e spero che vi siete iscritti sia questo canale che al secondo canale ovviamente anche su instagram possiamo iniziare a grattare questi grattivinci allora questa volta ho preso 500 special per provare questo qua da 5 euro poi ho preso numeri fortunati da 3 euro e crucigiolli da 3 euro per cui io so già se ho vinto se ho perso perché ho grattato qua e giustamente non farò più lo stesso sbaglio che ho fatto prima comunque per chi pensava che non ritornavo più a fare i grattivinci ovviamente non mi fermo e continuerò sempre a fare questi video per cui mi vedete sia su questo canale che sull'altro canale detto questo andiamo a vedere se ho vinto e divertiamoci insieme a grattarli per cui buona visione allora iniziamo con il 500 special che è più veloce vediamo dovrebbe sì così si vede allora iniziamo dai nostri numeri vincenti 42 18 16 20 e 34 ovviamente scusate ma devo trovare una postazione per grattare in questi grattivinci allora questi sono numeri vincenti vediamo se riusciamo a trovarli iniziamo con 24 non c'è 28 non c'è spero che non fa lo zoom 12 scusate ma 30 e 33 non ce l'abbiamo poi 23 non c'è 43 c'è il 42 21 non c'è 40 neanche 37 non c'è a e iniziamo dal qua 29 27 non ce l'abbiamo 14 abbiamo il 18 25 non ce l'abbiamo e per finire 45 che non c'è bene allora controllate anche voi scusate per lo zoom ok questo biglietto è perdente per cui non abbiamo vinto adesso adesso facciamo grattiamo l'altro grattiamo numeri fortunati allora spero che non da cioè si vede bene comunque 21 vediamoci 21 21 non c'è 23 abbiamo il 26 27 non c'è 35 35 abbiamo il 34 non c'è il 51 non c'è e ma dai però il 38 non c'è ma almeno un numero no eh 27 sì qua abbiamo il 27 spero che si vede però provo a fare ancora un po' di zoom poi 34 34 eccolo qui 34 c'è solo quello poi il 32 l'ho visto prima qui 32 ok poi il 56 56 qui l'ho visto poi 73 eccolo qui scusate 73 ok stiamo controllando ok 42 non c'è 12 ecco 12 c'è solo quello poi 39 39 non ce l'abbiamo 19 eccolo qui 19 c'è un altro anno gli ultimi due che sono 63 che non c'è e per finire il 33 che è qui sotto ma giustamente non ce l'abbiamo 19 ovviamente sarei curiosa di sapere i premi allora qua c'era 100 qua c'era 25 qua c'era 20 mila anzi 200 mila qua c'era 10 e qua c'erano 1000 cioè praticamente cioè praticamente pensavo che almeno 25 euro 10 euro e invece niente questo biglietto è perdente e vai l'ultimo l'ultimo proviamo a vedere allora iniziamo dal lettere M adesso qua è un po' difficile perché allora qua c'è M vediamo se c'è un altro qui o IMM non c'è niente non so perché è diventato buio all'improvviso vediamo se c'è una luce così si vede meglio con un po' di luci poi G G G G vediamo 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 non c'è neanche una poi la Q Q Q ci sta qui poi c'è un'altra no andiamo avanti con la R R R allora abbiamo qui la R abbiamo qua la R qua la R R poi R R R R c'è un'altra non li vedo ah qui e basta andiamo avanti con la V V V V V V V V V ce n'è qua una poi poi basta non ce n'è più almeno io non ci vedo più ok allora in la B B c'è questo c'è questo c'è questo c'è 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 qui c'è qui manca la A e la O se riusciamo a trovare questi due in teoria abbiamo vinto la perolina B non ce n'è andiamo con la C C C C qua C C C C C C dove è? basta poi H H H H dove sta l'H io non lo vedo voi lo vedete? io non lo vedo sono un po' cieca non so perché andiamo avanti A A cavolo manca la O manca la O dai su che riesco a trovare la O qui c'è la A qui c'è un'altra A A manca anche qui la D qua manca la T dai 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 che forse riesco a trovare la O ops scusate ok andiamo avanti con la E E E qua c'è la E qua la E qua anche qui e basta no anche qua ok poi K la K io non l'ho vista non la vedo poi D D D D D D D D dove sta la D poi D D D D ora andiamo avanti it 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 non c'è F F F F qui poi allora in teoria dividi l'ho completato però non sono sicura se se ho vinto perché la F non la vedo F ce n'è solo una ok poi S S S S S qua ce n'è una S su acqua ho dimenticato la R comunque andiamo avanti poi dopo allora la P qua c'è la P dopo controllo bene perché sinceramente forse ho perso qualche ah lo vedi R qua ho dimenticato la R B io non la vedo sinceramente non c'è poi G la G o qua c'è una G poi G no G qua non c'è c'era solo quella basta e l'ultimo è la U la U c'è questo la U qui la U qua poi U U U qua qua U e basta allora ricontrolliamo perché sinceramente allora la B ok la V allora facciamo prima fare la I qua non c'è la N qua non c'è la O non c'è la L non c'è la I neanche R ci sta che è qua poi la è qui la C è qui poi U c'è la F ok no non c'è la M si è questa T allora ho completato questa parola ma comunque vabbè parola jolly vediamo la O abbiamo R o c'è la C c'è c'è la R c'è e la A c'è perché è qui per cui in teoria in teoria ho vinto c'è il premio è di 500 allora aspettate aspettate un attimo allora ho combinato un casino scusate non ci ho capito più niente perché ho gli occhi che non vedo niente non so il perché non vedo niente forse per il sole perché entra la luce poi esce e non ci capisco più niente per cui alla fine ho sbagliato io e non ho visto non so il perché ho scambiato praticamente la Q questa qui con la O e io pensavo che avevo completato la parola allora so che queste sono le mie lettere se avevo allora ad esempio la C la R la A qua nelle mie lettere ci sono mancava la O io pensavo che era la Q cioè ok è difficile scambiare la Q con la O però non riesco a capire il perché avevo gli occhi che non vedevo niente infatti neanche adesso vedo per sto cavolo di sole cioè non non ho capito il perché sono andata in tilt l'ultimo grattevinci anche se ho visto tutto tutto lettere proprio tutte ma questo biglietto è perdente per cui dopo sono andata a rivedere piano piano le lettere perché poi già sono piccoline in più devi stare lì allora ci voleva tipo un pennarello che segnavi però ad esempio se voi grattate tipo così non so se vedete però certe non si capisce perché poi dopo ti perdi infatti la prossima volta uso un pennarello che così almeno riesco a capire le lettere come ho visto che fanno anche gli altri dei grattevinci oppure faccio prima non comprarlo che è meglio perché anche se sto così ma non perché non ci vedo ma perché sono stata il sole che entra dentro gli occhi adesso io non vedo più non riesco neanche oh mamma non so che cosa è successo comunque niente tre biglietti perdenti calcolate che questi tre biglietti li ho presi uno al giorno non uno tutti insieme di solito non spendo così tanto ma però dato che volevo provarli ho detto vabbè li provo anzi vi dico questo ho visto i grattevinci da 50 centesimi testo croce li voglio prendere allora vi dico solo che ho già vinto 5 euro in quel grattevinci però non ho registrato il video e mi sono un po' pentita di non averlo registrato prossima volta compro quei grattevinci mi prendo un bel po' e poi li li grattiamo insieme nel video per cui la prossima volta prenderò quei grattevinci che finalmente li ho trovati in un bar e quando li prendo vediamo se vinciamo qualcosa dato che sono andata un po' in tilt in questo video è meglio che ci vediamo al prossimo io vi ricordo lo stesso di iscrivervi al canale e anche sul secondo canale mi raccomando vi prego iscrivetevi anche lì perché ci saranno nuovi video molto belli e in più ho messo anche nel anzi ho messo nel secondo canale il video già è già sul canale dove gioco con le macchinette del Luna Park e dei gettoni per cui se non l'avete ancora visto andatela a vedere che è un bel video e lì ho vinto un premio per cui questo canale non lo vedete perché l'ho messo nell'altro però io vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto bello detto questo io ci ci vediamo al prossimo video che è meglio sto andando in tilt ciao al prossimo video